Non la classica recita scolastica ma un concerto per levare alto il grido contro la guerra, promuovere l'accoglienza e la raccolta fondi per l'Ucraina. La classe seconda B della scuola primaria Luigi Illuminati dell'istituto comprensivo Pescara III ha organizzato insieme al tenore Piero Mazzocchetti il concerto 18, Cuori per la Pace, durante il quale arte, musica e commozione insieme alla spontaneità dei bambini ha fatto sentire la propria voce e il proprio sostegno all'Ucraina e ha promosso una raccolta fondi di beneficenza. Le parole del tenore Mazzocchetti e dell'insegnante promotrice la maestra Fina Guerra. Beh sì, i bimbi sono i protagonisti in questo pezzo che è No War No Tears e non poteva o non esibirmi con una piccola parte di una rappresentanza pescarese, noi siamo al Mazzini di Pescara ed è un momento molto bello perché dai bambini arriva un coro unanime, No alla guerra, e speriamo che insomma le loro voci candide possano in qualche modo essere ascoltate, anche se ormai più di 100 giorni nella guerra. Temiamo che nessuno sforzo e impegno possa essere accolto contro la follia umana, però noi ci speriamo sempre, speriamo sempre che la musica possa in qualche modo dare una testimonianza di pace e soprattutto prolungata nel tempo. Sì, abbiamo avuto questo grandissimo onore, ma il maestro si presta sempre a tutte queste cose di solidarietà ed ha un rapporto speciale con i bambini, quindi per noi è un grandissimo onore, i bambini sono stati felicissimi, hanno interpretato questa canzone con una gioia, abbiamo fatto oggi un'ultima prova su una base dove non c'era la sua voce e loro l'hanno cantata tutta a squarciagola, quindi è un grandissimo onore che non è da poco insomma, quindi noi lo ringraziamo pubblicamente di questa cosa.